Potente a pala ragazzi, qua ho Axel, oggi è Megadoggi, non sono da solo, ebbene si avete capito bene, oggi non sono da solo Bensì sono in compagnia di... Bella ragazzi, sono Musk E quest'oggi siamo qua per presentarvi un video un po' speciale perché è appunto il ringraziamento dei 2000 iscritti a pala, proprio potenti Cosa avevo deciso di fare per questi 2000 iscritti? Tanto che ho visto che le idee dei contest vi piacciono molto, ho deciso di fare un contest potente, appunto chiamato il potente contest Che aveva, ah come monte premi appunto 100.000 credit, oh my god Cioè quindi 100.000 è veramente tanto eh E quindi, boh allora innanzitutto parliamo del regolamento, regolacollo Allora il regolamento bisogna essere iscritti al canale, al mio canale che è o Axel Aver messo mi piace a questo video, aver aggiunto ai preferiti questo video E aver commentato questo video scrivendo potente appara e partecipo Beh beh per gli inglesi sub to o Axel, like this video, like this video, like to prefer this video Anche se mi sa che ho cannato, comment with potente appala iscriviti Allora questo contest durerà da oggi, che perché il video lo sto commentando ieri, che in realtà è oggi Però beh, inizierà l'11.11.11.12 e finirà il 23.25.11.12, non ci riesco neanche a leggere Infatti durerà due settimane esatte, boh, spaccate E quindi, boh, mannaggia mi è saltato la roba Qui durerà due settimane spaccate, potenti E quindi, boh, commentate, mi raccomando solo un commento Beh, potete anche cambiare account così Però non fatelo, vi pre... vabbè potete anche farlo Però se no poi ci sono iscritti in attivi e bla 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 E cavolatacce varie Quindi, boh, ricordate di partecipare Potete vincere 100.000 crediti Poi io farò come alzaolito la alzaolita estrazione Passando al secondo argomento di oggi Che è l'argomento, chiediamolo a Masch Che il poverino deve stare per forza zitto È l'argomento... Del derby di Roma Del derby di Roma Perché sulla pagina Facebook vi avevo detto, vi avevo anticipato Che avrei iniziato dai giveaway Ecco qua il primo di FIFA 13 Allora, innanzitutto per partecipare Bisogna andare alla pagina Facebook Non su questo video Perché questo video sarà... È riguardante il contest principalmente Bisogna andare sulla pagina Facebook Bisognerà azzeccare Adesso voi starete vedendo l'immagine Che devo cambiarla perché ho sbagliato Dovete azzeccare il risultato esatto della partita Quindi ad esempio Lazio-Roma 1-1 Mi dovete dire i marcatori Quindi ad esempio facciamo Totti e... Uno della Lazio Mauri vai Quindi voi mi dite Totti e Mauri E quindi... L'ordine anche L'ordine Quindi dovete anche azzeccare l'ordine Perché magari voi dite Totti e Mauri E ma... Ma non mi ricordo nulla Mauri Infatti non mi viene Però se segna prima Mauri E poi Totti Avete perso lo stesso Quindi dovete azzeccare Il risultato esatto ovviamente I marcatori E l'ordine dei marcatori Quindi non ditemi magari 2-1 Ci sono tre marcatori totali No, mi dovete scrivere bene I marcatori totali L'ordine Quindi marcatori totali L'ordine E in più il risultato esatto E... Il monte premi sarà massimo di 20.000 Sarà calcolato in base ai mi piace Messi su quel post Allora ragazzi Detto questo Io vi dico potente appala Ci sento al prossimo video Vi faccio anche salutare da Il miticissimo E parla... E chiacchierone mask Bella raga Ci sente bolla Domani con... No, stasin... Brrrr Chiacierone åh butto Ehi Ehi Ehi